Non hai alcuna speranza di battermi? Forza, cedi il tuo posto... Asukuna. Mutazione oziosa! Oh! Quindi osi toccare la mia anima. Sei quello che prima ha reso con gusto del moccioso insieme a me. Per questa volta chiuderò un occhio. Ma non riprovarci. Impara a stare al tuo posto. Mentecatto.